La pioggia che ha funestato l'estate degli italiani rovinando le vacanze di molti e diversi raccolti fa esultare invece i tartufai. Secondo la FNATI, Federazione Nazionale Associazioni Tartufai, sarà l'anno del tartufo low cost e di ottima qualità, un'annata eccezionale secondo le stime della FNAI. Per i buongustai il tartufo sarà veramente a portata di mano, sottolinea Coldiretti, con prezzi popolari, che vanno da meno di 200 euro letto per il bianco di Piemonte a 10 euro letto per il nero del centro Italia. La raccolta del tartufo è già partita per il bianco, mentre a novembre prenderà il via quella del nero pregiato. Mentre ad Alba si scaldano i motori per la fiera internazionale, quest'anno dall'11 al 16 novembre la stagione è partita con il piede giusto, sono attese oltre 100.000 presenze e si va verso il tutto esaurito nelle prenotazioni alberghiere. Andando avanti nella raccolta e in prossimità di Natale, il prezzo del tartufo è sicuramente molto ragionevole, sottolinea Bruno Sabella, presidente della FNAI. Aggiunge sicuramente le quotazioni saliranno, ma non dovrebbero comunque andare oltre i 1.000 euro al chilo. Attenzione però al pericolo contraffazione, avvisa l'organizzazione agricola con i tartufi magari cinesi di importazione spacciati per italiani. È l'Italia, il vero paese dei tartufi, sottolinea Sabella, perché solo da noi ci sono tutte le tipologie del pregiato tubero. E poi si trova veramente dappertutto, anche in Puglia, soprattutto nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, tartufo bianco pregiato, estivo o scorzone, tartufo uncinato.